E' stato approvato con due emendamenti migliorativi il regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico mediante installazione e gestione di Deors. Per l'amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Ettore Di Ventura si tratta di uno strumento utile per migliorare le forme e le proposte di intrattenimento per i cittadini, per implementare l'attività degli esercizi commerciali di somministrazione, asporto, gastronomia, artigianato tipico locale per qualificare il decoro urbano, per procedere con corretto assetto degli spazi della città attraverso strutture organizzate gradevoli e con il via libera da parte del Consiglio Comunale adesso il regolamento è attivo e darà vita a molti commercianti della città per migliorare le proprie attività lavorative. Approvato anche l'atto di indirizzo rivolto all'amministrazione comunale presentato dalla seconda commissione consigliare sulle iniziative da intraprendere per combattere la ludopatia. Approvato anche il piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per il triennio 2017-2019 presentata dal comandante Domenico Ferrante che prevede alcuni obiettivi con relativa retribuzione di straordinari per gli agenti della polizia locale. Ritinata dall'amministrazione comunale per evidenti anomalie la proposta di programma costruttivo di 12 alloggi popolari in contrada reda proposto dalla società cooperativa edilizia Casa Amica. Infine non è stato possibile discutere la mozione presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Falcone sull'inquinamento ambientale davanti alle scuole perché Falcone non era presente alla seduta consigliare ed aveva preannunciato la sua assenza. Così il presidente dell'Assemblea cittadina Alberto Tedesco ha dichiarato il punto decaduto ma si è riservato di inserirlo nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Seduta che probabilmente sarà convocata per il 28 dicembre quando sembrava che quella di ieri potesse essere l'ultima riunione del 2017 invece sarà necessario convocare un altro consiglio per l'elezione dei revisori dei conti. Attualmente il collegio dei revisori contabili opera in regime di prorogazio ma la scadenza del mandato è fissata per il 3 gennaio 2018 quindi per evitare di far restare il Comune senza revisori si dovrà procedere alla convocazione della seduta che il presidente tedesco ha ipotizzato per il 28 dicembre. La scelta dei revisori dei conti sarà fatta con il sistema del sorteggio tra le istanze che sono pervenute al Comune. La prima seduta del 2018 è stata fissata per l'11 gennaio ma a convocarla non è stato il presidente tedesco ma il commissario Domenico Mastrolembo Ventura che due giorni fa è stato in municipio ed ha verificato che il bilancio preventivo è stato approvato nella seduta del 15 dicembre scorso mentre ancora non si è proceduto all'approvazione del consuntivo 2016 per cui l'ente è commissariato. Quindi per espressa volontà del commissario il consuntivo sarà discusso alla prima seduta utile quella convocata dallo stesso funzionario regionale il prossimo 11 gennaio 2018.